Allora, ci tocca il Telegraph, che sarebbe questo, no? Che sarebbe questo. E poi ancora il Montginevro. Sì, e il Calibier? Il Telegraph, Calibier e il Montginevro. Ah, ecco, sì. Ma poi sul Montginevro entriamo in macchina? No, poi ci tocca ancora andare fino a Susa. Se qualcuno non arriva poi a Borgone. Certo. Ma anche il Trabiamo a Susa. Grazie per avermelo ricordato. Grazie.